quinta apparizione mercoledì 18 giugno 1986 figlioli miei mi compiaccio per le vostre preghiere esse sono molto utili alla vostra anima continuate a pregare per la conversione del mondo io dico al mondo convertitevi e sappiatelo fare in nome di gesù ormai non c'è più tempo per curarsi del corpo pensate alla purificazione della vostra anima correte da gesù nell'eucaristia egli è la vostra salvezza molti uomini con la loro superficialità e brama di grandezza offendono il signore chi è come dio nessuno è come dio facciano attenzione a quegli uomini di poca fede o gli riccatevi la vera vita beata sta in cielo non pensate che dio non esista dio è sempre stato e sempre sarà per un atto di amore misericordia e bontà vi ha creato quindi adoratelo lodatelo glorificatelo pregatelo di darvi la grazia di godere il premio eterno e promettergli fede umiltà e preghiera fate tutto questo in nome suo e per la sua maggior gloria madonnina ti ringrazio di avermi fatto guarire le sofferenze sono spine ma se offerte a gesù sono rose non bisogna mai lamentarsi perché gesù ha sofferto più di chiunque e poco si è lamentato gesù vi dono nel suo amore quando gli offrite le umiliazioni che ricevete gesù vi dono nel suo amore quando gli offrite gli insulti che ricevete offrite ogni male che ricevete a gesù e ditegli che per amor suo che lo ricevete e che glielo offrite per la conversione dei peccatori e che in lui avete conforto madonnina mi avevi promesso che mi avresti rivelato alcune cose con quale titolo ti presenti io sono la regina della pace e desidero rivelare al mondo il mio amore il mio cuore è tanto addolorato e per far conoscere il cuore immacolato della regina della pace mi servirò di te in verità non ti prometto un tappeto di rose su questa terra ma nella luce del mio cuore conoscerai l'amore di dio che ti attirerà a sé dal diario di rosario dette queste parole la madonna disgiunse le mani e allungò il braccio destro in avanti con il rosario in mano come ad invitare alla preghiera il sinistro lo pigò un po' in segno di protezione dal centro del petto della madonna usciva un grande bagliore e dopo vidi il cuore della madonna circondato da tante spine che dal di sotto si aggrovigliavano come un cespuglio mi senti immerso in quella luce e potevo contemplare l'amore della santa vergine fra sette giorni sarà la mia festa confidate nel mio cuore immacolato non vi abbandonerà mai vi benedico nel nome del padre del figlio e dello spirito santo madonnina quando verrai verrò il primo giorno del prossimo mese ora devo andare grazie a tutti